Venerdì 12 febbraio a Perignano Cilento, precisamente in via salita a Purgatorio, è stata inaugurata la struttura sanitaria medical R. Si tratta di un centro di riabilitazione, recupero e rieducazione funzionale presente anche nella città di Vallo della Lucania. La riabilitazione costituisce un pilastro del sistema sanitario accanto alla prevenzione e alla cura per il completamento dell'attività volte a tutelare la salute dei cittadini. È un processo nel corso del quale si porta una persona con disabilità a raggiungere il miglior livello di autonomia possibile sul piano fisico, funzionale, sociale, intellettivo e relazionale, con la minor restrizione delle sue scelte operative pur nei limiti della sua menomazione. La rieducazione funzionale invece, come suggerisce la parola stessa, serve a rieducare il corpo alle normali attività motorie o posturali. L'inaugurazione è stata svolta con la benedizione di Don Peppino e la presenza del sindaco Cantalupo, il vice sindaco Rizzo, parte dell'amministrazione comunale e il maresciallo Franco, comandante della locale stazione dei Carabinieri. La struttura rappresenta un'opera importante per il piccolo paese cilentano che può da adesso in poi vantare sul proprio territorio comunale un centro di medicina fisica e riabilitativa dove gli esperti saranno a disposizione della comunità e di chiunque abbia necessità di visite specialistiche.